. Dove andiamo raga? Via andai o diga? Andiamo a diga? Dove andiamo a diga? Devo scendere subito. Eh mannaggia Cristo mi sono buttato raga. Eh dai andiamo. Dove andiamo? Dio stiamo andando raga non lo so. Diga no? Chi è che ha messo diga? Vabbè andiamo a stazione a sto punto. Eh ma è troppo... Non sto capendo un cazzo. Raga non so dove andate. Oddio che burto l'atterraggio raga. No sto atterrato senza con i pugni sto. Cioè non ho capito come funziona l'atterraggio. Io sto con i pugni pure. Raga qua ci sono pochi due botti. Ma cosa so? 5 e 56. No 7 e 62. Non ce li ho. Vado vado dagli altri dai. Guardate che stiamo a coppia raga. Si. C'è uno zaino. Gente! Oh no sei tu. Cazzo. Ma qua è morto qualcuno raga. Si. Si. Raga la safe come si vede. Minchia dobbiamo scappare raga è lontanissima. Andiamo andiamo raga. Sento sparare? Si andiamo. Ancora mi do abitare raga io son nab proprio qua eh. Abbiate pazienza. Mai giocato proprio. Eh ma è uguale a code la mira oppure tipo Fortnite? Si si è uguale uguale. Un pochettino di ballista ma la ballista. Ok. Ho capito si si. Vabbè. Si ma non si vede gente da lontano. Guarda c'è una barca. Guarda c'è una barca. Venite qua. Ma non ha senso prendere la barca fra. Si. Assunto. Eh no perché ci sparano ci sparano. C'è ragione. C'è gente a 192. Passiamo nella risaia. Passiamo nella risaia. Esatto. Hanno messo un sacco di ostacoli. Questo è buono. Ma c'è gente? Eh si ho sentito spagaio. Cosa sta a dire raga? Kit medico si l'ho preso. Non so se. Cos'è il lancedot? Ma c'è. Eh. Raga. So pagato. Ragazzi so pagato. Vedo tutto blu. So dentro un container. Non mi fa muovere. So dentro un silos. So dentro un silos e non mi fa muovere. Vedo tutto. Come va ad entrare? Raga. Come è possibile? No vabbè. Spaccatelo raga. Che cosa facciamo? Ho scavalcato il murit. Mi ha fatto entrare dentro il silos. Si è scherzando. Te lo giuro. E adesso? E come faccio morà? Dai. Ma la mia prima partita su questo gioco fa cagare. Sei diventato un silos. Ma posso? Mettaci provo che stagione. Istantanea. Istantanea. No vabbè. No vabbè. No vabbè. No vabbè anche lui fra. Non ci credo. E mo? E mo? E mo? Aspettissimo. Come sento? No vabbè raga dai uscite per favore. Eh non possiamo. Non ci fa uscire. Non mi fa muovere. Non mi fa proprio saltare. Non mi fa proprio saltare. Ahia. Come figuro. Come faccio a curarti? Andiamo. 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 Non possiamo fare niente. Non possiamo fare niente manco noi ragazzi. Non ci credo. Ma neanche vi vedo. Dai. Oh. Oh aspetta. Come faccio a rianimarti fra. Eh vabbè. Mori. Ti spiace fra. Ti ho salvato. Ho santo Dio che brutto. Ho santo Dio guarda il mio visuale. Oddio l'esercista. L'esercista. Sei l'esercista. Sei l'esercista. Sei l'esercista fra. Guarda. Fra che cazzo è? Eh. No. 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 Ma che bene. No. No. C'è stato. No. No. Prima spesa. Ma. Mentre. No. Prima. Che vinco dentro. Up. Ma. Si può. Spostare. Se fosse. Consumo. Tutti. Un. tanto non vedo che qualcuno ci sia ancora cioè regalo non è possibile uno del genere è comunque troppo bello guarda cioè però a parte no vabbè voglio morire rispetto regalo giuro voglio morire rispetto cioè che cazzo di partire in merda la mia prima partita assoluto nel gioco oddio oddio ma che è successo? ma che sta succedendo? smacco tu cosa sta succedendo? che ne? ma che sessione di gioco non disponibile? vabbè io la salvo